non voglio quel microfono sarebbe un problema se potessi fidarmi di te sul filo del rasoio del doppio gioco mi hai mentito no allora qualcuno ti ha fregato sempre più pericoloso voglio osservare tutti inizierò da lei credi che tess sia la talpa io sono l'unico che sa la verità shades of blue prima tv canale 5 mercoledì 21 10